La rissa si è accesa in discoteca ed è poi proseguita anche fuori con l'inseguimento dell'ambulanza con i feriti per proseguire il regolamento dei conti. Così 10 trentenni italiani residenti tra la Valtiberina Toscana e Perugia sono stati denunciati a Sansepolcro. È successo nella notte tra Pasqua e Pasquetta l'ingresso di una nota discoteca a biturgenze. Attorno alle 2.30, all'entrata della sala da ballo, è volata qualche parola di troppo tra gli addetti alla sicurezza ed alcuni clienti. Pare che alcuni di loro volessero entrare gratis. Ne è così scaturita una violenta baruffa. L'episodio è durato pochi minuti ma tanto è bastato per far sanguinare qualche labbro e far intervenire l'ambulanza dell'ospedale di Sansepolcro. L'intervento immediato dai carabinieri della locale compagnia sembrava aver riportato la calma ma invece non è stato così. Mentre i militari stavano cercando di ricostruire l'accaduto e l'ambulanza partiva per trasportare tre feriti al pronto soccorso, altri tre si sono messi in auto e l'hanno seguita sino all'ospedale dove volevano concludere il regolamento di conti. Sono trascorsi alcuni minuti prima che si rendessero conto della gravità delle loro azioni e si allontanassero spontaneamente. La denuncia è comunque scattata nei confronti di tutti i coinvolti.